Buongiorno a tutti ragazzi qui è giocatore interessante e ben ritornati nel mio canale e oggi siamo qui col sedicesimo episodio della carriera giocatore su FIFA 16 Nello scorso episodio abbiamo pareggiato la partita di FK contro il Manchester United e quindi in questo episodio dovremo andare di nuovo a fare la partita di FK quindi la ripetizione del quarto di finale Poi ci sarà la partita contro il Liverpool ma quasi sicuramente non saremo in sito della formazione titolare perché due giorni sono impossibili per recuperare la forma E quindi probabilmente questa qui la simuleremo perché non siamo stati appunto in sede nella formazione titolare e andremo a giocare direttamente la partita contro il West Ham di campionato Cerchiamo almeno di vincere ragazzi e di andare in FK quindi noi ci vediamo in partita ragazzi però prima come sempre 200 like per supportare al massimo questa serie E noi ci vediamo in campo, buona visione a tutti, bella! Eccoci qui ragazzi le squadre stanno per andare in campo, questa volta siamo in casa e inizia adesso Tottenham Manchester United Sto Manchester United ragazzi mi ha fatto arrabbiare, ci sta facendo giocare una partita che non avremmo dovuto giocare Io potevo riposare, potevo conservare le forze per il campionato invece questa ripetizione non ci voleva proprio Attenzione la mela è buona per noi, possiamo andare dentro per Eriksen, vai Eriksen, guardami, guardami sulla corsa Eriksen, bene così, bene così Incrociamo col sinistro, Victor Valdez, calcio d'angolo, attenzione dentro, è buona di testa, la giriamo noi! Di testa, incredibile, sul calcio d'angolo ragazzi, non ci posso credere, gol sul calcio d'angolo, noi che siamo bassistimi, di testa la colpiamo noi E' 1-0, possiamo andare, proviamo a superare Mezonen, ancora così, proviamo a passare in mezzo a 2, che cosa stiamo facendo? Ragazzi vuoi il destro, volevo farla finta, Dembélé, è buona per noi, è buona per noi, possiamo andare ancora una volta, possiamo andare, possiamo andare Il destro, Valdez, attenzione, che è scivolata, tutto regolato, no, no, dai, ho preso il pallone, ho preso il pallone, dai Per fortuna che non ci ha muniti ragazzi, perché di solito questi interventi, quando li fischia, ammonisce anche Manca un minuto ragazzi, infatti, fischia adesso, fine primo tempo, 1-0 Voglio assolutamente ragazzi, segnare il secondo gol, perché va a finire che succede come l'altra volta, che mettiamo 1-0, usciamo dal campo e ci fanno 1-1 Le zone è qui, recuperiamo palla, possiamo andare, con calma, con calma, passiamo in mezzo, via così, via così Ancora il destro, volevo farla finta, ma perché non mi viene? Intanto Marco Storoglio qua ha tirato al posto nostro E adesso inizia il possesso palla infinito del Manchester United Siamo anche in difesa ad oltranta ragazzi, quindi non sto neanche a correre più di tanto, perché sennò mi scala la valutazione Vogliono che io stia qui, e quindi stiamo qui E siamo fuori, accidente, andiamo a simulare il resto della partita E non fate come prima, mi hanno ascoltato, non hanno fatto come prima, questa volta ne hanno presi 2 Ne abbiamo perso 2-1 Io non ci posso credere ragazzi, ma dai, ma non è possibile Non è che vi lascio da soli per 5 minuti e voi mi perdete due partite così Pareggiate la prima e perdete quei, dai Prossima partita con Liverpool, non siamo stati in sede nella formazione titolare Ovviamente Come avevo ben detto, perché era impossibile recuperare in due giorni Andiamo a simulare 2-2 E perdiamo anche punti in campionato a questo punto Visto che dovevamo vincere tutte in campionato per risalire Facciamo i nostri allenamenti ragazzi Andiamo a simulare tutto Lo so che qualcuno di voi ha detto di giocare ragazzi Ma sinceramente non mi piace fare gli allenamenti Di farli sempre Ogni tanto qualcuno ci sta Infatti qualcuno ogni tanto lo farò Però per il momento li voglio simulare Prossima partita quindi ragazzi contro West Ham Siamo in campo questa volta, sì Andiamo a vedere velocissimamente la classifica Noi siamo al sesto posto ragazzi Alle spalle del Manchester United Noi abbiamo 50 punti E il nostro obiettivo è il quarto Oppure il terzo posto Ma sono tutti e due allo stesso punteggio 58 e 58 Non so se lo vedete perché c'è la webcam Comunque Liverpool 58 Arsenal 58 Manchester United 53 E Tottenham 9 50 Il nostro obiettivo ragazzi È arrivare al terzo posto E quindi recuperare 8 punti sul Liverpool E quindi vincere la partita contro Liverpool Contro il Liverpool di prima sarebbe stato fondamentale Invece l'abbiamo pareggiata Comunque noi ci vediamo in campo ragazzi Contro il West Ham Bella Eccoci che ragazzi Esco adesso per entrare in campo Inizia adesso West Ham Tottenham Attenzione bene Ericsson Di prima per noi possiamo andare Fuori 1 Via così Appoggiamo per Ericsson Ora calma Ericsson 1-2 con Ericsson Bellissimo Bellissimo Ancora Ericsson Ancora Bello Il destro Traversa Attenzione per Token Buona per noi possiamo andare Via così Via così Può andare Fuori 1 Da che passiamo Da che passiamo Da che passiamo Un po' di rimpalli Dove è la parola Dove? Non sto capendo più niente Venti rimpalliciati E poi Che cosa fa l'altro? Attenzione Cazzo d'angolo Guardami più che tira al volo Guardami Lasciatela Lasciatela La no 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 Era mia La mela A sinistra di la mela Bravo la mela Bravo Vieni qua Vieni qua Vieni qua La mela Vieni qua E assist per noi ragazzi E assist Volevo tirare Ragazzi Volevo stoppare Alla fine E' venuto fuori Un assist bellissimo Per la mela E poi ha fatto Un'ottima conclusione Ragazzi 1 a 0 Giriamo La finta Non passiamo Allora Mason Ancora per noi Con calma ragazzi Con calma Dobbiamo andare a fare Un bel cross Dentro per Ericsson Di testa Ericsson Non ci arriva Poi la rimettiamo dentro No Finiamo il tempo 1 a 0 Attenzione Dennis recupera palla Ne appoggiamo Dentro Ancora Dennis Guardami sulla corsa Bene No Così attenzione Però è che la recuperiamo Io ci provo ragazzi No Cosa ho fatto Dai Anche dall'albitro Che la recupera Dembele E' buona per noi Dembele Cioè questo è il rosso Se non è il rosso questo Ragazzi io me ne vado Giallo Cioè Io non so se l'albitro ha visto Perché cioè Assurdo Come si fa ad andare giallo Noi siamo vivi per miracolo Cioè Guardate qua ragazzi Guardate qua Dritto sulla caviglia Guardate lì Son volato E siamo fuori Al sessantatresimo Ma perché Adesso guai a voi ragazzi Se non avete Se non avete vinto la partita Se non avete vinto la partita Ragazzi 3 a 0 Bravi Bravi Almeno questo Dai Andiamo avanti quindi Per la partita Conto il Manchester United Vediamo se siamo in campo No No Ragazzi io Non so Sarà una mia sensazione Ma non stiamo giocando più spesso Ma Forse dipende dalle nostre prestazioni Dando bella vittoria sul Manchester United Io non lo so ragazzi Fatemi sapere qui sotto nei commenti Magari sono io che sto giocando male Non credo Visto che la squadra Ogni gol che fa Io ci sono sempre in mezzo Con un gol o con un assist O ogni gol che fa la squadra Non lo so Intanto qui ragazzi FC B F B Andiamo avanti quindi ragazzi Per la prossima partita di campionato Che contro lo Stock City Andiamo a vedere rapidamente la classifica Noi siamo in campo Vero? Non l'ho visto Sì siamo in campo E questa qui è la classifica Noi siamo al quinto posto ragazzi E L'Arsenal che è al terzo posto C'ha solo Tra virgolette 6 punti di distacco Quindi dobbiamo recuperare 6 punti In queste 3 6 partite Quindi dobbiamo recuperare 6 punti Ragazzi in 6 partite Si può fare Se le vinciamo tutte Quindi per questo video è tutto ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto È stato così Mi da lasciare un bel like Per supportare al massimo questa serie Ci chiamo come sempre Di superare i 200 like Noi ci vediamo con un prossimo video ragazzi Bella Ciao